Francia, Grounds and Ensembles. Ground and Ensemble, come dire che siamo grandi e che siamo insieme, poiché in questi quartieri abbiamo bisogno tanto di grandeur quanto di vita collettiva, afferma il commissario del padiglione francese Yves Lyon. Il tema del Common Ground viene interpretato come invito a riposizionare la solidarietà e la condivisione di esperienze professionali.